A quest'ora non vi voglio tediare assolutamente con concetti pesanti, difficili, stimolanti sicuramente, ma cercherò di essere quindi il più semplice possibile. Non avrete formule matematiche, formule fisiche nel modo più assoluto. Sarà una carrellata veloce perché capisco la tarda ora e tutte le nozioni che avete percepito in questa giornata. Questo sconosciuto, Ugo De Vries, è, per andare al sodo, una persona importante da un punto di vista proprio del tema dell'ereditarietà. Quindi siamo in piena epigenetica o genetica. E adesso vediamo. Nell'ereditarietà si osservano cambiamenti minimi e pochi. Ugo De Vries non ne sapeva niente di quantistica. Eppure che cosa ci dice? Ci dice che i mutamenti sono discreti, quindi interi, quindi siamo nell'ambito della quantica immediatamente, e discontinui. Quindi lui ha letto in qualche modo i cambiamenti come salti quantistici. Non esistono strutture intermedie tra l'origine, cioè una struttura energetica originaria di partenza, e quella cambiata. Perciò la mutazione è quantica perché non esistono energie intermedie tra i due livelli energetici. Quindi la mutazione è un salto quantico, ma anche la mutazione è un salto quantico, e l'aveva accennato Ernesto Burgio. Una mutazione è un salto quantico ed è quindi un'informazione di regolazione, e quindi di una regolazione terapeutica. È un'evoluzione quindi. E qui entriamo di nuovo in un concetto importantissimo e molto rivoluzionario nella nuova biologia, che poi a sua volta diventa una biologia quantistica. La definizione di complessità. La caratteristica della complessità è una caratteristica di un sistema concepito come un aggregato organico, organico, quindi organizzato, strutturato di parti tra loro interagenti, in base alle quali il comportamento globale del sistema non è immediatamente riconducibile a quello dei singoli costituenti. E se ci pensate bene, questa frase definisce una nuova, e qui già un nuovo parametro, una nuova epistemologia. Non è più una epistemologia della quantità, ma della qualità. Dipendendo questo dal modo in cui essi interagiscono. Uno più uno non è due, ma può essere uno virgola nove, se gestito male, o due virgola uno. La complessità è distinta tra caratteristiche e operazioni. Quindi una questione molto, non solo teorica, ma anche operativa. La complessità, quindi, è un'informazione che entra dentro in una cellula e irriversibilmente quella cellula non sarà mai più quella di prima, perché la nuova informazione l'ha resa più consapevole. Usiamo pure questa frase. Quindi le caratteristiche della complessità è che c'è una teleologia, quindi un finalismo, nelle cellule, e questo finalismo è distinto in coscienza e consapevolezza. La cellula, quindi, ha un'informazione che la rende diversa da quella precedente. Quindi c'è una consapevolezza e una coscienza. Anche qua, Burgio aveva detto che c'era una visione in cui la coscienza determina un'operatività, determina da un pensiero, quindi una realizzazione strutturata dentro nella biologia. E infatti questo è auto-organizzata. L'auto-organizzazione vuol dire che c'è un dialogo, una comunicazione interna tra le cellule. La cellula è patologica, si differenzia in una ciclotronia alterata. Parola difficile che non abbiamo tempo per approfondire il discorso. Però è importante vedere che c'è un dialogo tra le cellule. Un'altra caratteristica è la direzione, quindi biforcazioni di scelta, la cellula sceglie. La direzione è portata anche ad una esasperazione attraverso un orientamento. Le funzioni goal, cioè le funzioni che ci portano a uno step ulteriore, ha una possibile direttività, quindi direzionata e orientata verso una funzione obiettivo, uno scopo ben preciso. E' autolimitante, è autolimitante perché siamo, come dice Popper, in un universo propensionistico. Quindi c'è una grande selezione verso la propensione ad un obiettivo universale di tutto l'universo. Quindi ogni cellula è in vibrazione e in connessione attraverso le sue informazioni, quindi l'informazione e l'aspetto quantistico, verso una selezione di intelligenza. Si può parlare di un'intelligenza della cellula. Quindi vi è una connettività, un entaglete, quindi. La cellula è connettiva e quindi è in relazione con tutte le esperienze intorno a sé, di tutto il mondo. Ha in sé quindi un'unità, un concetto di unità. Abbiamo qui quindi la visione degli ecimeri, che è il primo passo verso la realtà quantistica. Le moderne acquisizioni nella medicina quantica hanno dimostrato, parimente la medicina della tradizione, come lo stato di salute non coincide con lo stato biochimico, ma la condizione necessaria per lo stato di salute è il rapporto con l'equilibrio di coerenza luminosa, ovvero con i fotoni organici. Quindi i biofotoni interpretati dalla medicina della tradizione come equilibrio energetico. Poi vedremo bene cosa si intende per equilibrio energetico. La definizione più giusta è informazione energetica. L'omeostasi biochimica. Ecco, abbiamo tre mondi differenti. Uno coincide con l'altro, viene diciamo armonizzata uno con l'altro, sono complementari tra di loro. L'omeostasi biochimica è lenta, indiretta, mediata attraverso le molecole. Da sola è incompatibile con la vita. L'omeostasi elettromagnetica è velocissima, diretta e mediata. Perché è incompatibile con la vita? Non è assolutamente una situazione negativa. È la dimensione costruttiva, strutturale, per poi essere velocizzata attraverso tutte quelle esperienze, come per esempio gli enzimi, che velocizzano e annullano il fattore tempo. In questo caso è vista come incompatibile con la vita. Da sola non può portare avanti un discorso di velocizzazione della struttura nella sua evoluzione di consapevolezza. Quindi, abbinate le due realtà, quella biochimica e quella biofisica, avremo una omeodinamica fotonica, quindi un movimento. E vi sottolineo questa parola movimento, ve lo sottolineerò ogni volta che faremo questa carellata per arrivare a un dunque ben preciso, il toroide. Quindi, omeodinamica fotonica è simultanea, grazie a questa interconnessione tra biochimica e biofisica, ritardata e anticipata. Non voglio entrare che qui si andrebbe avanti per un pomeriggio intero. ritardata è esattamente il principio di causa-effetto, quindi non voglio soffermarmi, anticipata è esattamente l'opposto. La causa inversa che è posta nel futuro, quindi ritorniamo alla visione finalistica, teleologica, non teologica, teleologica dell'universo, e che quindi l'omeodinamica è un movimento simultaneo di tutta un'unità, per esempio del nostro organismo, che è contemporaneamente nella causa-effetto e nello stesso tempo nella causa inversa, lo scopo posto nel futuro, da qui tutta quella visione propensionistica che si diceva. Quindi il DNA regola un equilibrio biochimico tramite produzione di proteine attraverso somministrazioni di sostanze chimiche e dall'altra parte l'equilibrio quantico-elettromagnetico tramite emissioni di biofotoni, quindi abbiamo una somministrazione di energia, ma informata. E naturalmente tutto questo succede grazie all'acqua, visto che l'acqua nel nostro organismo non è solo H2O, ma è anche H3O2, ma questo nell'argomento di oggi ci interessa relativamente. L'ossigeno è una parziale carica negativa, l'idrogeno è una parziale carica positiva, c'è un angolo preciso, architettonico direi più che matematico, che crea il rapporto tra ossigeno e i due idrogeni, che è un angolo di esattamente 104,45 gradi. Questo qui è l'arco che crea quindi quella rete particolare nell'acqua che porta a creare il movimento nel dipolo elettrico. L'ossigeno è diviso quindi in una doppia realtà, un polo positivo e un polo negativo, esattamente è un rapporto di 0,41 gradi, scusate, elettronvolt, tra il rapporto dell'equilibrio del polo positivo col polo negativo. Abbiamo in questo modo un movimento di polo elettrico, quindi un'esistenza di scorrimento di corrente, perciò abbiamo una capacità reticolomagnetica dell'acqua. Il magnetismo è movimento, per sua definizione il movimento, e abbiamo quindi questa visione esattamente quasi cristallina, ma quasi cristallina si scrive con una parola sola, unita, quasi cristallina che è l'acqua A, e quindi questo crea la memoria dell'acqua, la cosiddetta memoria dell'acqua. La memoria dell'acqua quindi è accettata come la sostanza della tradizione, di tutto il nostro passato, la nostra memoria, ma anche di tutto ciò che verrà, tutto ciò che sarà arricchimento per queste molecole reticolari ben precise. Quindi la molecola d'acqua è oscillante, oscilla in risonanza con il campo esterno. Ecco qui che entriamo in un concetto già epigenetico, perché noi abbiamo la relazione proprio esattamente strutturata con l'acqua in relazione ad un campo esterno che quindi incomincia a iniziare il dialogo di questa sostanza e quindi di una cellula, di un organismo con il mondo esterno. Ogni informazione dal campo esterno crea quindi una coesione, quindi una coerenza, una frequenza unitaria, di tutto il dominio di coerenza, che è tutto il cluster, il gruppo di molecole d'acqua che hanno avuto l'identica informazione. Quindi abbiamo, ogni volta che si crea un dominio di coerenza compare quindi una nuova forza. Questa nuova forza è l'informazione. Quindi è un nuovo movimento, un ulteriore movimento, che è la forza di condensazione, che è questo livello di coerenza che mantiene legate fra loro tutte le molecole d'acqua, dal dominio medesimo rendendolo, questo importantissimo, stabile. Non ci interessa la staticità, ci interessa la stabilizzazione. Questo fenomeno si definisce quindi super radianza, perciò abbiamo dal dominio di coerenza una forza di condensazione, che è la nuova informazione, che viene strutturata e inglobata nel legame delle molecole d'acqua del dominio stesso. Si ha quindi una stabilizzazione di coerenza e quindi una super radianza, una comunicazione, quindi questa struttura acquosa, verso il nuovo, verso una trasformazione evolutiva. E questo forse è la slide più importante, più significativa. I sistemi viventi generano la liberazione di entropia nell'ambiente esterno. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi siamo dentro, abbiamo questa giornata accumulato varie informazioni, e queste informazioni ci portano ad una sensazione precisa di avere un movimento interno per le informazioni stesse avute. È un qualche cosa che quindi ci viene dall'esterno, ma che va a, in qualche modo, creare degli attriti anche, dei dubbi. Perché? Perché noi magari abbiamo ricevuto delle nuove informazioni che ci rendono conflittuali con delle vecchie informazioni che abbiamo. Questo è un'entropia. È una situazione dove c'è un'energia libera dispersa nell'universo. Sei minuti. Entropia, come? Sei minuti. Sei minuti, perfetto. Questa entropia è un momento in cui io ho una liberazione dall'interno all'esterno. Quindi io ho delle assunzioni, di nuove informazioni, attraverso le energie e dei nutrienti dall'ambiente esterno, da quello che io ho ricevuto. Questo meccanismo, in questa sala, tutti i gruppi che ci hanno preceduti, dove hanno avuto delle altre informazioni, magari di tutt'altro genere, hanno creato una circolazione negentropica che noi inesorabilmente le abbiamo ricevute. Anche se non abbiamo avuto contatti e informazioni di quello che è successo nei giorni passati, nell'ambiente di questa stanza. Ecco, noi riceviamo e percepiamo delle energie dove soggettivamente spesso diciamo qua si sente un'energia forte, un'energia positiva, o viceversa, un'energia pesante, un'energia negativa. Ecco, queste sono tutte le informazioni negentropiche che noi possiamo avere. Ma questa liberazione di entropia nell'ambiente esterno è la nuova informazione per l'ambiente esterno. È la negentropia dell'ambiente esterno. Noi ridiamo all'ambiente esterno, a questo microcosmo, tutti i nostri vissuti, tutte le nostre informazioni che abbiamo integrato. E questo cosa creiamo? Poi tra l'altro un gruppo, una gruppalità, un dominio di coerenza. Noi come esseri umani abbiamo creato un dominio di coerenza. Quindi abbiamo un aumento cosiddetto toroidale, non vi voglio spaventare con questa parola, di informazione. Il toroide che cos'è? Il toroide sono queste figure interessanti anche dal punto di vista estetico, ma sono vitali. Sono il movimento nei due poli, polo superiore e polo inferiore, dove mi entra dentro un'energia informata che mi passa per il centro di questa figura toroidale, che è come volgarmente una ciambella. Ma una ciambella è in movimento. Quindi ritorniamo a quello che abbiamo visto quando abbiamo parlato dell'acqua, che è un movimento, continua ad esserci un movimento energetico informato però, che quindi mi ritorna e si automantiene, si auto-organizza in se stesso. E quindi mi entra nel polo inferiore e mi esce dal polo superiore, ritornando su se stesso continuamente. E quindi ritornando continuamente e automantenendosi, si auto-rafforza. E quindi aumenta la consapevolezza dell'informazione che ha avuto. Ma nello stesso tempo entra in relazione con le altre cellule, per esempio, o comunque con le altre molecole in cui è in relazione diretta. Questo è un toroide che quindi dà la struttura di tutto l'universo. L'universo va e si sviluppa attraverso queste informazioni, che sono a carattere torridale, quindi continuamente attive, continuamente cangianti. La materia vivente e la temperatura è molto importante, perché abbiamo una maggiore liberazione di entropia in tempi veloci, attraverso la temperatura. Processo vitale, con maggior numero di informazioni però. Quindi è una temperatura alta, accelera le mie reazioni chimiche, le mie reazioni chimiche, quindi gli scambi energetici di informazione. E qui ritorniamo a una visione negentropica, cioè dell'evoluzione della consapevolezza. Non mi voglio soffermare sulla sovrapposizione degli stati, che sono tutte le strutture con cui noi abbiamo le possibili strutture energetiche, che però devono calarsi, non mi voglio soffermare tanto, calarsi in una nuova sovrapposizione di stati. Quindi quello che diventa realtà, il nostro pensiero, la nostra coscienza, che diventa poi realtà, ritorna a una struttura materiale. Quindi la materia è materia sempre vivente, proprio perché si realizza attraverso una scelta propensionistica di uno stato teleologico, quindi finalistico, verso un obiettivo ben preciso, che può essere nella cellula come può essere nell'universo stesso. Ecco che allora qui possiamo vedere l'informazione nella membrana cellulare, dove abbiamo una sovrapposizione di stati che sono probabili, potenziali, ma sono selezionati in una propensionalità, secondo la possibilità maggiore per la realizzazione dell'universo intero. Quindi siamo proprio nell'unità, nell'unità dell'entargumento, se ci pensiamo bene. E quindi si può dire che ci sono per la stimolazione di questo movimento progressivo a ogni livello, dalla molecola alla cellula e alle strutture cosmiche, eccetera, eccetera, o anche le strutture umane, le varie civiltà, tutto quanto riguarda una legge che è sempre la stessa. Abbiamo quindi due possibilità che sono commissionate una con l'altra. Lo stato necessario, che in chiave medica si potrebbe dire dalla patologia alla terapia. Naturalmente non è qua il caso di soffermarci con quale terapia, punto interrogativo, e nello stesso tempo lo stato creativo, il salto quantico, che è incoerente apparentemente, sottolineo incoerente perché è trasgressivo, non è per forza secondo i progetti delle nostre logiche umane, non è per forza attraverso i progetti delle nostre logiche animali, vegetali, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che la parola natura deriva il participio futuro del neutro, delle cose che verranno, da nascono, quindi le cose che nasceranno, che non sono ancora nate. Quindi non per forza l'arroganza delle nostre credute conoscenze ci portano ad avere un processo chiarificatore determinato. Non è per niente determinato. Un minuto. Arrivo subito, perfetto. Quindi lo stato necessario, quindi l'evoluzione e lo stato creativo ci portano a un collasso della funzione d'onda, a una realizzazione. E questo è il penultimo slide che è molto importante. Il discorso molto forte dall'acqua, arriviamo a vedere come le cellule staminali e le citochine insieme portano alla modificazione della tubulina che è una proteina che si trova per esempio nelle strutture cerebrali, la tubulina che è appartenente ai microtubuli che sono quindi, come dice Ameroff e Penrose, dei siti di collasso quantico in cui informazioni di universi paralleli si incontrano in aree di coscienza o di intenzione in quanto decisioni. La materia decide. La materia è importante che decide anche attraverso situazioni, non voglio entrare qui nella cosmologia, di universi paralleli, di ipotesi di universi che sono parallele ai nostri ma differenti da noi. E noi sappiamo benissimo che tutto questo succede scientificamente. La connessione risonante tra le cellule e l'organismo è quindi una sintropia. Non mi fermo qui a parlare della sintropia che non c'è tempo. Effetti quantistici nei cervelli sono provocati dall'allineamento degli atomi d'acqua contenuta nei microtubuli. I microtubuli sono quindi l'origine della coscienza. Non mi soffermo sull'entagma quantico perché ci serve tanto da dire ma so che un po' avete idee chiare su questo. E concludo con questa frase che è il cambiamento del paradigma della fisica. Dallo studio delle posizioni, i movimenti delle particelle e delle cellule nello scorrere del tempo, siamo adesso a seguire le loro relazioni e comunicazioni nell'evoluzione del tempo permanente. Noi stiamo dialogando continuamente non solo come esseri umani, non solo come cellule ma come volontà universali di tutto il cosmo intero che sta progredendo verso un fine ben preciso. Grazie. Tanta roba. Grazie a te.